Siamo finalmente arrivati al dunque. Mauro Del Bue, impaziente. L'ho già caldeggiato diverse volte di riuscire a contenere un intervento che spero possa stare nella mezz'ora. Oltre alla mezz'ora gli spegnerò il microfono. Per farmi perdonare in premessa vi do una bella notizia. Troverete sotto l'albero di Natale la letterina coi contributi alle società sportive per il biennio 2010-2011. Non ve l'ha mandata Babbo Natale, ma il Comune di Reggio. Quindi, sì sì, applaudi pure perché chi non applaude non verrà finanziato. Cari amici sportivi, non uso altro termine perché oggi è il mondo sportivo reggiano protagonista di questa nostra conferenza. Cari amici sportivi, dunque, subito dopo la mia nomina ad assessore allo sport del Comune di Reggio, che risale a luglio scorso, ho maturato l'idea di promuovere un'assemblea con tutte le società sportive reggiane. E quando mi sono messo al lavoro, con i miei collaboratori, che qui voglio ringraziare pubblicamente, ho fatto due scoperte che mi hanno destato un notevole interesse, ma anche un vivo stupore. La prima attiene alla quantità di società sportive presenti sul territorio comunale. Sono ben 500 e aggregano oltre 50.000 persone. Si tratta dell'aggregazione di gran lunga più consistente rispetto a tutte le altre di natura culturale, sociale, economica e oggi, dato il riflusso, anche politica. Non esiste un altro campo d'azione che sia così frequentato. E parliamo dello sport associativo, che non è, non deve essere, il solo nostro punto di riferimento. Se sommiamo le persone associate alle persone non associate che praticano sport, il numero è destinato a crescere ancora. E soprattutto oggi, perché mai come oggi la pratica sportiva si è diffusa nelle persone d'ogni età per ragioni di benessere, per motivi di salute, di prevenzione e anche di cura. E mai come ora lo sport è diventato una necessità per tutti. Mi è capitato di ascoltare recentemente il maestro Claudio Abbado chiarire in una trasmissione televisiva le ragioni per le quali non ci devono essere tagli alla cultura. E l'ultima e più significativa tra quelle ricordate dal grande direttore d'orchestra è quella secondo la quale la cultura aiuta a vivere meglio. È vero, e vi parla una persona che nella sua vita non è certo stata insensibile alle esigenze della cultura e dei teatri, ma se c'è oggi un'altra disciplina che aiuta a vivere meglio è proprio quella sportiva. Anzi, la cultura aiuta a vivere meglio, lo sport spesso aiuta a vivere. Lo sport inteso come attività fisica, volta al benessere del corpo e della mente, come ricordavano i latini, orientato spesso, come abbiamo già ricordato, anche alla cura e ancora più spesso alla prevenzione. E allora ricordiamo innanzitutto questo assunto, che richiama la prima delle mie convinzioni in proposito, e cioè che lo sport che più ci deve interessare è quello delle donne e degli uomini, che siano associati o no, che praticano o intendono praticare una disciplina sportiva. È lo sport dei cittadini, o come l'abbiamo denominato per parafrasare la nostra qualifica di reggiani, lo sport delle persone. In questa consapevolezza non c'è nulla che possa irritare l'associazionismo sportivo. Preferisco definirlo così piuttosto che movimento, per sgravarlo da ogni implicazione politica. Associazionismo sportivo, che ritengo un valore fondamentale del nostro territorio, un valore distintivo dello sport reggiano, un bene da preservare e da crescere ancora, se possibile. La seconda scoperta della nostra ricerca, propedeutica all'iniziativa di quest'oggi, riguarda la data dell'ultima conferenza dello sport. Non voglio chiamarla stati generali perché non amo copiare gli originali, ne penso sia sempre utile richiamare la rivoluzione francese, a cui mi sento legato negli ideali fondamentali di libertà, di fraternità e di uguaglianza, ma che è difficile immettere, diciamo, Sigel Simpliciter in un'assemblea che parla di sport. Mi è stato riferito che l'ultima conferenza dello sport cittadino risale addirittura al 1987. E la cosa mi ha, da un certo punto di vista, sorpreso e da un altro anche un po' gratificato, perché nel 1987 ero proprio io l'assessore allo sport, nonché vice sindaco di Reggio Emilia. Ora, non voglio dire che se non fossi tornato nella vecchia trincea, per merito o per colpa del sindaco che ha voluto propormi la stessa delega di allora, la conferenza dello sport non si sarebbe tenuta mai più. Però il fatto che oggi siamo qui insieme almeno può testimoniare la mia volontà, che non è mai cambiata in questi oltre vent'anni di attività politica, che resta quella di concepire l'attività amministrativa sulla base di un'ampia disponibilità al dialogo e al confronto. Al confronto ho creduto, cercando di utilizzare al meglio il direttivo della consulta sportiva, col quale abbiamo avuto modo di stabilire un rapporto di continue sollecitazioni e di scambi di idee, e che è stato recentemente rinnovato dall'Assemblea. E mia ferma intenzione è riunirlo ancora almeno mensilmente. Contemporaneamente ho tenuto stretti contatti con il CONI, con gli enti di promozione sportiva, con il Comitato Paralimpico, con tutte le società e gli enti che mi hanno voluto fornire indicazioni e stimoli in questo anno e mezzo di attività. Ne ho ricavato non solo l'impressione di un tessuto sportivo quasi unico in Italia, per consistenza, ma anche di un corpo vivo e vitale, consapevole del momento di profonda crisi che sta attraversando la finanza locale e sulla quale più oltre mi diffonderò, e nel contempo disponibile a fare appieno la sua parte per la soluzione almeno di alcuni problemi, un tessuto che ha capito che per soddisfare le esigenze dei singoli si deve anche corrispondere, chiedendosi non più solo che cosa può fare il Comune per me, ma soprattutto che cosa posso fare anch'io per me. Un tessuto di donne e di uomini che hanno fatto del volontariato un loro credo, e che costituiscono una ricchezza fondamentale per il nostro territorio, composto di società che fanno capo a enti di provenienza diversa e che mi pare oggi vogliono far prevalere su tutte le vecchie antinomie l'esigenza di esistere e di sviluppare a pieno le loro potenzialità, con concretezza e amore per un'attività di educazione, di aggregazione, di socializzazione. Viviamo oggi una fase nuova della politica sportiva. Se volessi fissare in cicli le diverse impostazioni del passato, direi che abbiamo attraversato durante il secolo scorso tre momenti fondamentali di cultura dello sport. Il primo, ad inizio del secolo scorso, quando lo sport si affacciò nel nostro mondo, anche grazie alle Olimpiadi e alle prime gare podistiche e di ginnastica, e poi alle prime società di football e di ciclismo. Sembrava un nuovo fenomeno fatto di competizione e di lealtà, ma riservato per molti aspetti alle classi più abbienti e chiuso al mondo contadino, che di fatica ne faceva già abbastanza e non aveva certo bisogno di nuove imprese sportive. Scrive a tal proposito un giornalista e uomo politico di sinistra sulla giustizia del 2 ottobre del 1910, Renato Marmiroli. Noi non amiamo i giri d'Italia e di Francia, le maratone sia grandi che piccole. La prima si svolse a Reggio nel 1905, dove ogni corsa è anche un trucco per fare la reclame alla casa fabbricante la macchina. Noi reagiamo e protestiamo contro quegli sport in cui l'uomo si tramuta in bestia. Questo sportismo a noi ripugna. E si aggiunge, a proposito della negazione del cosiddetto sportismo, il grido del giornale La Lotta, che sempre nel 1910 augurava, sic et simpliciter, sante legnate a tutti i corridori. Il fenomeno sportivo si allargò e divenne più popolare e fu sfruttato, questa è la seconda fase, dal nuovo regime fascista, che dello sport fece un suo cavallo di battaglia. Ma di esso volle soprattutto esaltare l'aspetto competitivo di sfida e di vittoria, un recupero della concezione dell'eroe classico in una duplice commissione, quella tra sport e guerra e quella tra sport e politica. La prima sbeffeggiata da Jesse Owen di fronte al Führer nelle Olimpiadi di Berlino del 1936, che in qualche misura ricorda la vicenda narrata, sia pure in campo calcistico, dal famoso film che vi ricorderete Fuga dalla vittoria, c'era anche Pelé, la seconda esaltata da Achille Starace e dal Coni ai tempi del Duce e da quei film luce che mostravano la squadra nazionale di calcio in maglia nera, vincitrice a Parigi con il braccio alzato. Lo sport ignorato dalla politica e anzi contestato come fenomeno di estragnazione dalla politica dell'inizio del Novecento, divenne così lo sport come disciplina fondamentale per esaltare i valori di un regime fondato sulla cultura del più forte. Dal secondo dopoguerra, la politica e in particolare i partiti di sinistra operarono una netta distinzione, favorendo però la nascita di una vera e propria contrapposizione tra sport spettacolo e sport di base. Si sancì una rottura, ma anche una continuità. La rottura era nei valori sportivi, quelli della competizione erano sostituiti da quelli dell'educazione e della socializzazione, ma restava la subalternità dello sport alla politica, anche se finalmente l'organizzazione sportiva poteva eleggere i suoi dirigenti e dunque inneggiare alla libertà dell'organizzazione sportiva. A Reggio furono anni formidabili e per impegno e per realizzazione di impianti e devono essere ricordati con riconoscenza anche coloro da Giulio Biggi a Virgilio Camparada ad Angelo Burani che in tal senso si impegnarono con passione e disinteresse. La lotta allo sport spettacolo e anche allo sport competitivo era forse un po' troppo fondata sulla necessità di distinguersi dal passato regime. Si poteva anche allora in fondo essere sportivi praticanti e nel contempo appassionati fruitori dello sport spettacolo che non era certo l'oppio dei popoli. Non c'è sempre bisogno di dicotomie, di alternative. Convincersi, come cantava Giorgio Gabber nella sua bella canzone, che la mortadella è di destra per avere il salame di sinistra non porta vantaggi. Come dire che il tennis è di destra e il podismo di sinistra. O generare posizioni secondo le quali il palasport sorto a reggio nel 1967 poteva essere costruito solo denominandolo impianto polifunzionale. Era solo una giustificazione, cioè una reticenza alla logica dei grandi impianti di carattere puramente ideologico superata attraverso una diversa definizione. Solo che nomina sunt consequentia rerum, come dicevano i latini, e un palasport e pur sempre solo un palasport ciò è un luogo dove certo si possono promuovere concerti e anche manifestazioni politiche, ma soprattutto disputare eventi sportivi. Ho ritenuto opportuno ricordare questi tre periodi della cultura dello sport perché credo che oggi siano tutti e tre superati. Lo è certamente il periodo della demonizzazione dello sport inteso come alienazione delle masse e in particolare dei giovani. Lo è il periodo della sola esaltazione dello sport come pura competizione. Ma secondo me lo è anche il periodo delle grandi contrapposizioni tra sport popolare e sport di vertice o non saprei come altro chiamarlo. Oggi siamo per diversi motivi la caduta delle pregiudiziali ideologiche, la particolare crisi della finanza pubblica, la diversa conformazione delle società sportive, comprese quelle professionistiche, i finanziamenti che derivano dall'entrata in campo così prepotente delle televisioni nello sport in una situazione in cui devono prevalere idee nuove, non più legate al passato. Alla fase delle grandi contrapposizioni noi oggi dobbiamo far succedere quella delle necessarie compatibilità delle collaborazioni, delle coesistenze. La fine delle contrapposizioni è la nuova cultura sportiva. Prendiamo quella classica tra sport di base e sport di vertice. Entrambe oggi possono essere orientate a sostenere lo sport per i giovani, anche in una nuova dimensione di collaborazione e di reciproca valorizzazione. Lo ha ricordato prima di me anche il sindaco nel suo saluto. Prendiamo la contrapposizione tra grandi impianti e piccoli impianti o impianti per lo sport cosiddetto di base. La moderna tecnologia ci fornisce a riguardo la più completa delle compatibilità. I piccoli impianti, palestre, sale per esercizi ginnici, sale pesi, piscine, possono e anzi ormai devono essere contenuti anche all'interno di quei grandi impianti che non possono essere concepiti come cattedrali nel deserto usati solo una mezza domenica ogni 15 giorni e che a mio giudizio devono essere sostenute dall'intervento privato. Io presentai al proposito una proposta di legge sugli stadi e i palazzi dello sport alla Camera dei Deputati e larga parte di quel testo è contenuto nella nuova legge oggi all'attenzione della Camera dopo essere stata approvata dal Senato. Anzi credo sia stata approvata dalla Commissione proprio ieri sera. Tra l'altro introduce un elemento interessante per evitare questa contrapposizione cioè dice che una parte delle risorse per costruire grandi impianti devono essere utilizzate per impianti dedicati alle scuole e c'è una percentualizzazione. Mi pare che anche in questo stia la mancanza di una contrapposizione e l'esigenza di una coesistenza. La filosofia è semplice questi impianti devono essere occasione di guadagno per le società sportive non di perdite per i comuni e devono contenere sia aree per la ricreazione e il commercio sia altre strutture sportive per lo sport di base. Così i comuni potrebbero essere sgravati non solo dal peso eccessivo di questi impianti ma anche dal costo delle strutture per lo sport di base in essi contenuti. E già siamo così al superamento di un'altra vecchia contrapposizione quella tra pubblico e privato. Oggi l'intervento privato non è solo auspicabile ma necessario tenendo conto delle gravi difficoltà in cui versano le finanze pubbliche. Non si può peraltro pensare all'intervento privato come a quello di un benefattore. Occorre sollecitarlo incentivarlo favorirlo con tutte le contropartite utili e possibili. A Reggio abbiamo palestre e piscine private che sono oggi necessarie come quelle pubbliche spesso convenzionate con il comune o la circoscrizione per dare risposte alle esigenze delle scuole e delle società sportive in pianti privati ad uso pubblico. Esperienze a tale riguardo interessanti si stanno promuovendo recentemente anche nella disciplina del golf tradizionalmente così aristocratica. E perché mai dovremmo evitare di considerarle parte di un sistema che si fonda sulla necessità di corrispondere ai bisogni del territorio semmai occorre che l'ente pubblico orienti e localizzi l'intervento privato. Questo è il nostro compito oggi. Non si possono costruire impianti privati in un territorio già coperto e occorre invece favorirne l'edificazione in aree che ne sono carenti. Prendiamo infine la contrapposizione tra gestioni pubbliche e gestioni private sulla quale mi diffonderò più avanti a proposito del passaggio delle piscine di via Melato alla Fondazione dello Sport e da questa alle società sportive. L'esperienza di Reggio è a tale proposito davvero illuminante. Noi attraverso la Fondazione per lo Sport una struttura che è stata voluta dal mio predecessore Giovanni Catellani e che si è dimostrata strumento utile ed essenziale per la gestione e la promozione dello sport reggiano non abbiamo più tranne appunto e per poche settimane ancora le piscine di via Melato alcun impianto sportivo gestito direttamente dal Comune e neppure la Fondazione li gestisce direttamente ma li affida all'esercizio diretto delle società sportive. Questo ha procurato vistosi benefici economici alle casse comunali senza diminuire ma anzi spesso aumentando la qualità delle prestazioni e conseguentemente dei servizi. Di questo devo dare merito a tutte le società sportive interessate e in particolare a quegli esponenti di esse che hanno dimostrato notevoli capacità manageriali. in poco più di un anno di lavoro desidero presentare un sintetico bilancio dell'attività svolta dal mio assessorato in perfetta simbiosi con la Fondazione per lo Sport. Un anno di lavoro serve e deve servire soprattutto per impostare e cominciare a risolvere i problemi. Ho capito innanzitutto che il problema di fondo è quello non già di finanziare e di gestire ma di governare e mi sono orientato a individuare una possibile strategia. L'ho trovata così occorre da un lato incentivare l'uso di risorse private e dall'altro razionalizzare la spesa. Noi oggi trasferiamo alla Fondazione per lo Sport la gestione degli impianti sportivi e per altre attività circa un milione e mezzo di euro in quota associativa. Le piscine di via Melato segnalano un consistente indebitamento allora si può e si deve risparmiare lì per poter investire da altre parti quando non ci sono soldi i soldi vanno trovati a parte il fatto che un'operazione di contenimento dei costi laddove c'è stato un evidente sperpero di risorse si dovrebbe fare sempre anche in presenza di una situazione florida a maggior ragione tale operazione si deve fare nei momenti difficili quando si rischia di penalizzare altre attività perché se non si fosse intervenuti è evidente che si sarebbe determinata una profonda disparità di trattamento tra discipline sportive diverse alcune troppo sorrette e altre per nulla sovvenzionate e se non avessimo individuato questo pericolo noi ci troveremmo nel giro del prossimo anno ad avere una singolare situazione le piscine di via melato avrebbero superato per contribuzione annuale la somma di tutti gli altri impianti comunali reggiani e siccome le risorse non sono previste in aumento avrebbero finito per prosciugare nel tempo anche parte di quelle stesse risorse riservate agli altri impianti comunali quindi abbiamo individuato il problema di fondo e abbiamo dato adesso una risposta il passaggio delle piscine alla fondazione che verrà ratificato entro la fine dell'anno e il successivo affidamento in gestione diretta degli impianti cosa che ormai invia di definizione nel pieno rispetto delle normative italiane ed europee pensiamo ragionevolmente di contenere la spesa e di recuperare quelle risorse che verranno poi investite per risolvere alcuni problemi di impiantistica sportiva oltre ad aver individuato e posto ormai a soluzione un grande problema sono state avviate le procedure per la ristrutturazione di otto nuovi impianti per lo sport di base con un metodo nuovo e che presuppone la disponibilità di intervenire delle stesse società sportive nonché il diretto coinvolgimento della fondazione con la partecipazione delle società sportive e con la modifica del sistema di concessioni d'uso degli impianti noi tra poco tempo inaugureremo diverse strutture tra le quali quella della nuova sede della cooperatori ciclisti proprio a fianco del circuito Cimurri che meritava un'adeguata manutenzione il nuovo spogliatoio della Reggio United il campo insintetico della Galileo i nuovi locali dell'US San Pellegrino poi in primavera il campo insintetico di Reggio Calcio gli spogliatoi dei campi di San Prospero roncocesi e forse anche dello stadio di baseball essere riusciti a investire in impianti sportivi nel momento di più acuta crisi della finanza locale lo ritengo qualcosa di miracoloso e di questo devo ringraziare il sindaco che ha creduto nell'operazione e il presidente della fondazione Anzio Arati in questo contesto va anche ricordato l'accordo positivo e produttivo tra la nostra fondazione e la società pallacanestro reggiana che ha sortito la ristrutturazione della palestra di via Cassala con un intervento di riqualificazione che non solo valorizza l'immobile ma non chiude la porta alla frequentazione in essa delle scuole e delle altre società sportive l'unica cosa che mi è davvero dispiaciuta è non aver potuto partecipare alla sua inaugurazione per motivi di calcoli non aritmetici ma biliari abbiamo anche riaperto i distinti del nostro stadio ancora purtroppo nelle mani del curatore fallimentare ma spero per poco si è trattato di un intervento di messa in sicurezza secondo le normative del decreto amato senza alcun onere per il comune è interamente pagato dalla società proprietaria dei petali e cioè la development si sono anche poste le basi finanziarie per l'edificazione della nuova piscina coperta di acquatico che figura nel piano triennale delle opere pubbliche del comune e il cui cantiere prenderà forma tra pochi mesi e così a proposito di cantieri abbiamo inaugurato quello per la costruzione della palestra di Rivalta un'opera essenziale per tutta la zona sud di Reggio e vengo al futuro che non leggo perché il futuro vi è stato già confezionato attraverso quello che Genari ha definito i dieci comandamenti ma non essendo Mosè io non ho proposto dieci comandamenti ma soltanto dieci proposte di lavoro che poi verranno discusse approfondite e che non chiedo naturalmente di mettere in approvazione ad un'assemblea ma di affrontarle con grande disponibilità appunto al confronto anche quando esso è critico al primo punto ho posto una questione che mi sta molto a cuore credo che stia a cuore a tutti coloro che hanno una visione dello sport come attività praticata dalle persone e cioè la questione dei parchi delle piste ciclabili in particolare la necessità di predisporre alcune opere quale il completamento del parco sul crostolo che è quasi completato per la verità ma l'idea che mi è stata prospettata dall'associazione Tutti in Bici che io ritengo molto molto bella e significativa è quella di avere una pista ciclabile lungo il crostolo che attraversi l'intera provincia praticamente da Canossa fino alla foce del Po adesso ci sono alcuni problemi anche nella città in particolare su un punto che riguarda l'ingresso nell'alveo del crostolo e alcune prescrizioni del magistrato del Po il sottopasso del campo di Marte per unire i due parchi che oggi sono divisi da una ferrovia e il potenziamento ulteriore della rete di piste ciclabili Reggio come sapete è la città della bicicletta per numero di chilometri di piste ciclabili in assoluto circa 160 pensate Milano ne conta solo 50 con una popolazione ben superiore alla nostra ed infine occorre dare risposta alla necessità di sistemazione del museo della bicicletta che da nove anni attende un'adeguata destinazione abbiamo ipotizzato sulla nuova ubicazione quella del mercato coperto in particolare della casa dello studente anche se dovremo trovare nel giro dei prossimi mesi forse un'ubicazione transitoria secondo punto abbiamo posto o proposto la questione dell'etica sportiva in particolare qui l'idea dello sport come momento di educazione di socializzazione di prevenzione e anche di cura abbiamo ipotizzato nuovi rapporti di collaborazione e anche di convenzioni tra amministrazione comunale e azienda ospedaliera sanitaria ospedaliera da un lato e tra amministrazione comunale e centri di prevenzione e recupero dall'altro io vorrei sottolineare qui che la nostra città è stata antesignana sui temi della medicina dello sport e che già nel 1980 l'allora consorzio sociosanitario fondò il centro di medicina dello sport centro di medicina dello sport che anticipò una legge del 1982 eravamo nell'80 che prevedeva l'obbligo della visita preventiva per coloro che praticano un'attività agonistica e mi fa piacere qui annunciare me lo ha ricordato il dottor Umberto Guiducci che è presente e che ringrazio che nel settembre del 2011 si terrà a Reggio Emilia il quindicesimo congresso nazionale di cardiologia sportiva al terzo punto ho collocato la questione del rapporto tra sport e scuola in particolare la necessità di rafforzare un'esperienza che noi abbiamo condotto nel corso degli ultimi anni e cioè quella di gioco sport giunto ormai alla tredicesima edizione ho letto recentemente che il governo assieme al CONI hanno lanciato l'idea della educazione sportiva una volta si diceva come chiamano educazione fisica educazione fisica nella scuola nella scuola primaria e che ci sono ti riferivi a William non a me a me che è una battuta che è rimbalzata infatti una battuta che è rimbalzata che introduce la possibilità per 40 città di usufruire di questo nuovo servizio cioè della educazione fisica all'interno della scuola primaria anche questo va alfabetizzazione motoria esatto alfabetizzazione motoria al quarto punto ho messo la questione del rapporto con la fondazione dello sport non ne parlo perché il presidente della fondazione ne parlerà lui stesso io giudico l'ho detto già nel corso della mia relazione molto importante e positiva questa esperienza il fatto che la fondazione per lo sport mi abbia sgravato di tutto ciò che è gestione degli impianti sportivi di questo devo ringraziare anche se non vuole essere citato il dottor Domenico Savino per la sua capacità e la sua presenza mi ha fatto molto piacere perché mi dà la possibilità di dedicarmi soprattutto alla programmazione alle scelte di fondo e non già alle minutaglie scherzo alle questioni più prettamente gestionali come quinto obiettivo abbiamo posto la questione appunto già dicevo prima del piano piscine e del piano palestre e poi anche l'edificazione della nuova piscina di acquatico il settimo obiettivo che di fatto è già raggiunto riguarda il trasferimento del complesso natatorio di via Melato alla fondazione per lo sport di questo ho già parlato ma voglio solo riassumere alcuni concetti e tornarci sopra perché mi sta molto a cuore a coloro che hanno protestato ma non credo siano cittadini ben informati ricordo che nessuna piscina della provincia è gestita direttamente dai comuni che nessuna piscina di Parma e di Modena è gestita direttamente dai comuni e soprattutto ricordo che nessun comune ha un indebitamento così alto come il nostro per un complesso natatorio e per di più in un momento così delicato per le finanze locali solo un irresponsabile avrebbe potuto ignorare questo problema e credo di non dover essere per questo accusato né dai fruitori del servizio né dai dipendenti dell'impianto questi ultimi non avranno alcun problema quelli a tempo indeterminato potranno restare dipendenti comunali e quelli a tempo determinato avranno maggiori possibilità di utilizzazione il servizio non verrà privatizzato come è stato scritto da qualcuno a meno che non si creda che tutti gli impianti sportivi passati alla fondazione e gestiti direttamente dalle società sportive siano stati privatizzati e anzi a fronte e sono dati ufficiali in nostro possesso di una continua e preoccupante diminuzione di ingressi di cittadini dunque di incasso delle nostre vasche l'obiettivo è proprio quello di aumentare gli spazi orari concessi al pubblico cioè i cittadini fermo restando le attuali tariffe e i prezzi di ingresso che resteranno competenza esclusiva del comune il servizio non subirà alcun peggioramento di qualità a meno che non si creda che tutte le piscine degli altri comuni che le piscine di Parma e di Modena che tutti gli altri impianti sportivi reggiani siano gestiti in modo di aver prodotto una scarsa qualità dei servizi la sfida con la nuova gestione darà la possibilità di produrre quelle risorse che sono indispensabili mai come ora per nuovi investimenti al fine di edificare nuovi impianti sportivi l'ottavo obiettivo rappresenta un ulteriore salto di qualità di tutta l'area che partendo dal vecchio Mirabello arriva a via Melato e da qui alla pista di atletica leggera nel corso della manifestazione di interesse contemplata dal piano urbano di riqualificazione della zona sono stati presentati diversi progetti a prescindere da quello prescelto e che potrà materializzarsi resta l'esigenza che abbiamo più volte sottolineato di unificare l'intero parco e di mettere dunque insieme le tre attività del nuoto del tennis più sport collegati e dell'atletica leggera un parco collocato ai fianchi della città che dovrebbe presupporre anche l'eliminazione di una strada e l'aggregazione dell'area del campo di calcio collocato sul lato nord un parco dello sport per i cittadini e per le società sportive che impone l'utilizzazione diversa del campo di atletica e pertanto urgente questo rappresenta il non obiettivo pensare a un nuovo impianto di atletica leggera capace di risolvere definitivamente anche l'irrisolto problema dell'indor abbiamo collocato in cima ai nostri progetti questo obiettivo della realizzazione del nuovo impianto di atletica e ci siamo impegnati alla sua realizzazione entro la fine di questo quinquennio pensando anche ai tanti atleti che Reggio ha partorito e che sono stati adeguatamente ricordati nel libro di Gianni Galeotti primo fra tutti assieme al mitico Dorando Pietri che il filo del traguardo lo superò solo con l'aiuto dei giudici e fu per questo squalificato a Londra nel 1908 ma proprio per questo entrò nella leggenda il nostro Stefano Baldini campione olimpico di maratona nella patria di maratona il decimo e ultimo obiettivo riguarda la città dello sport che ormai sorta a Mancasale e che confina con la ferrovia Reggio Guastalla collegata alla stazione centrale che a sua volta si collegherà in pochi minuti alla nuova stazione dell'alta velocità un'area importante e significativa per Reggio Emilia un'occasione da sfruttare a pieno anche per questo per valorizzarla e farla divenire un territorio di eccellenza per lo sport per il tempo libero per lo spettacolo per la musica all'aperto e al chiuso sono impegnato a risolvere la questione della proprietà dello stadio oggi in mano al curatore fallimentare e che non può certamente diventare proprietà del comune perché come ho già più volte ripetuto sono nettamente contrario agli stadi di proprietà comunale e sarebbe davvero un singolare paradosso che mentre tutti sono orientati a costruire stadi privati l'unico stadio privato d'Italia diventasse pubblico e nel contempo sono fermamente impegnato assieme al sindaco e alla giunta a realizzare il nuovo palazzo dello sport con due palestre incorporate che dovrebbe sorgere nell'area sud dello stadio di Reggio per il nuovo palazzo si sono sprecate promesse e generate illusioni che risalgono ormai allontano 1985 normale dunque che a fronte di un nuovo concreto impegno si nutrano riserve e perplessità le cose smentiranno i dubbi concludo non vorrei aver esagerato nel proporvi obiettivi qualcuno potrebbe arricciare il naso e dubitare del mio del nostro realismo ma io credo che tutto questo si possa fare davvero citare adesso il si può fare forse non è più di moda e allora la metto così io ce la metterò tutta e sono convinto che insieme ce la possiamo fare davvero grazie Mauro